ok adesso vediamo il QSET 8 Plus, questo è molto più cattivo del primo, sempre manuale di istruzione, chiavi, chiavi, per gonfiare, per stringere, carica batterie, 48 Volt, da 1,5 A, ritrangenti, 4,5 A, ritragmiche, Grazie. E' proprio qua, scusate. Silenzio. Allora. Il V7-8 e il V7-8 Plus sono quasi uguali. La struttura è sempre quella. La struttura è sempre uguale. La struttura è sempre uguale. vediamo i parametri da busek 8 più allora praticamente abbiamo due motori dai 600 watt per 48 volt potenza di pippo è 1100 watt per due motori capacità batteria 768 watt 16 ampere e pesa 25 kg la ricarica da zero è di 10 ore la velocità massima limitata per il momento a 25 all'ora può raggiungere i 45 a distanza massima percorribile in eco mode è di 90 km percentuale di salita è del 25 per cento anche lui come peso massimo può portare fino a 120 kg la ruota come larghezza è una 9 per 3 le misure sono un metro 135 per 600 per 12 1210 mm abbiamo strip led anteriori luci led due due posteriori e due anteriori sospensione a molle elicoidali i freni sono comunque anche loro a tamburo il freno abbiamo messo ABS e freno meccanico sempre a tamburo le gomme sono anche in fratura il telaio è il telaio in avanti il telaio in avanti è stata sede è stretto le attività capito le attività provare accensione clicca dovremmo regolare un coltello molto meglio luci luci di posizione, frecce, destra e sinistra doppio motore meglio anche lui limitato a 25 all'ora plasso regolazione manubrio 1, 2 e 3 sono pronto per la netto via grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti